39. Scippo Mi hanno scippato la borsa, dove avevo le chiavi di casa, e adesso ho una paura terribile che i ladri entrino in casa, ma non ho i soldi per cambiare la serratura. Commento La paura è parte integrante della condizione umana, che, come dice la saggezza popolare, è una valle di lacrime. Perché? Perché nella gerarchia universale la condizione umana esprime una bassa evoluzione.